La Corte dei Conti C'è stata da una parte una sottolineatura del fatto che in qualche modo c'è un sistema di corruttura della Repubblica Amministrazione che va avanti, non si ferma, nonostante passino gli anni. Le chiedo prima questo. Condivido totalmente. Ne sono stato vittima da magistrato, avendo cercato di indagare a fondo il sistema corruttivo nel nostro paese. Lo vedo oggi da sindaco facendo un'attività di prevenzione assoluta, essendo la nostra amministrazione prua nella lotta alla corruzione e a un sistema criminale che pervade la pubblica amministrazione, lo Stato è il nostro paese. Quindi questa analisi dura sulla corruzione e la condivido totalmente. Anzi, a mio avviso l'analisi è ancora più dura, nel senso che va anche oltre le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, ma riguarda tutto lo Stato. Quindi condivido questa analisi. Quindi bisogna fare una grande azione di controllo, una grande azione di prevenzione, una grande azione di vigilanza democratica dei cittadini, una rivoluzione culturale che è una grande attività chiaramente investigativa e repressiva. E tra l'altro, sottolineamolo, che sempre meno raramente fatti di corruzione riguardano anche gli organi di controllo. E quindi se incomincia a esserci una confusione tra controllori e controllati, c'è una torsione sistemica criminale particolarmente pericolosa. Lo stesso Presidente, parlando dei debiti del Comune di Napoli, ha sottolineato che sono debiti che risalgono a decenni fa, ha detto che ci vorrebbe una legge speciale, bisognerebbe stralciare i vecchi debiti e lasciare agli amministratori la possibilità di gestire la città. E' un'analisi che fa il Presidente della Corte dei Conti, ed è un'analisi interessante, equilibrata, equidistante, corretta, sia perché si riconosce in modo netto che si tratta di debiti storici della nostra città, quindi non di questa amministrazione, e consentiteci anche di dire di cui noi siamo vittime e che quindi noi non riusciamo, pur con tutte le azioni di efficienza e di risanamento e di correttezza messe in atto, a svolgere il mandato per cui siamo stati eletti e quindi alla nostra ferma volontà di voler soddisfare tutti i diritti dei cittadini e i bisogni dei cittadini e che il quadro normativo attuale, quello che io sto dicendo da tempo, il quadro normativo nazionale e i vincoli finanziari non consentono di far fare quel salto di qualità. Quindi, come dire, che ci sia bisogno di un intervento legislativo da parte del Governo e del Parlamento lo diciamo da tempo, poi alcuni come il Presidente, io non potrei essere che un beneficiario, parla di legge speciale, noi riteniamo da tempo che sarebbe anche sufficiente un intervento di legislazione ordinaria. Questo la dice lunga su come noi siamo quelli che non abbiamo mai chiesto nulla e che fino ad ora, in sette anni, abbiamo riscattato questa città, come ormai tutti quanti ci riconoscono, esclusivamente col capitale umano, con la passione, con la competenza, con l'onestà, con la forza e con la partecipazione dei cittadini, che ho più volte sentito richiamare anche negli interventi oggi e che ho molto apprezzato da questo punto di vista, sia da parte del Procuratore Generale, del Presidente della Corte, ma anche degli altri che sono intervenuti. E' quello che sta accadendo a Napoli. Pensate un po' che cosa accadesse in questa città se non avessimo i vincoli normativi e i vincoli finanziari che ci hanno messo piombo sulle ali e che non ci hanno consentito di fare quello che noi quotidianamente vorremmo fare. Quindi la nostra è una grande azione di tenuta, di resistenza, di riscatto morale, di riscatto umano, di forte azione che si fa sul territorio, ma per poter avere, come dice il Presidente della Corte, quell'innalzamento anche della qualità dei servizi, chiaramente senza soldi diventa tutto, non dico impossibile, ma tutto davvero molto, ma molto, ma molto complicato. Però noi non demordiamo, soprattutto la settimana prossima andiamo in Consiglio Comunale per approvare il piano di riequilibrio, quindi noi rispettiamo le leggi, ma protestiamo contro le ingiustizie. Andremo a Roma per questo il 21 e ci fa piacere che ci siano organi autonomi e terzi che non solo riconoscono l'azione che stiamo mettendo in campo, ma anche, come dire, l'ingiustizia del peso che paghiamo per non avere una legislazione che ci consente di fare quello che è per cui abbiamo il diritto di governare e di dare risposte ai nostri concittadini che ci hanno eletto. Poi soprattutto vorrei sottolineare che condivido molto l'analisi che è venuta oggi dalla Corte dei Conti, cioè Corte dei Conti non solo come organo di controllo e di sanzione, ma come organo, come dice la Costituzione, anche di ausilio, di cooperazione, come vogliamo chiamarlo, di accompagnamento verso la buona strada della trasparenza, cosa che noi facciamo ogni giorno, quindi poter cooperare insieme a istituzioni così autorevoli, terze e di controllo ci garantisce, ci rassicura, l'importante, ma questo sta accadendo sempre di più, che chi controlla si mette anche nei panni del controllato, cioè come è stato detto prima, cioè governare una città senza soldi, mettendo in atto un'azione di massima trasparenza, rompendo un intreccio criminale, eliminando affaristi e personaggi equivoci e loschi che volevano entrare nel controllo dell'amministrazione pubblica, questa è un'attività, farlo senza soldi, con gabbie normative, vincoli finanziari, un quadro nazionale che non aiuta, è un'impresa improba alla quale noi vorremmo aggiungere l'inalzamento della qualità dei servizi, ecco perché noi dobbiamo poter coniugare rispetto delle norme ma anche attuazione dei diritti perché altrimenti c'è il rischio che tu fai quadrare tutti i conti e poi la città se ne crolla, quindi noi dobbiamo provare a far quadrare i conti e evitare che la città crolli. Si riesce a fare, questi sette anni ci stiamo provando, però se cambiassero le norme a livello nazionale potremmo andare molto più veloci. Grazie a tutti